Mi ha aiutato a tagliare i tentacoli della piovra PD che sta uccidendo l'Italia? Mi è stato assegnato il rapporto sulla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, che, come ci ha dimostrato il fenomeno di Mafia Capitale, si fondono insieme alleandosi. La strategia del Movimento 5 Stelle prevede certificazione antimafia di tutte le imprese europee, perché oggi è facilissimo per la criminalità organizzata riciclare il denaro sporco investendo in tutta Europa, semplificare le procedure burocratiche per garantire maggiore trasparenza nelle scelte a livello amministrativo. Esiste un meccanismo, si chiama e-procurement, e riduce il rischio di corruzione negli appalti pubblici. Tutelare i whistleblowers, i testimoni e i collaboratori di giustizia, per far aumentare le denunce e non l'omertà. Rinforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo. Abbiamo visto che il terrorismo è stato favorito dalla mancanza di coordinazione e di fiducia reciproca. Combattere i paradisi fiscali, che sono un luogo di raccolta e riciclaggio dei proventi delle attività criminose. Queste proposte, insieme al DASPO per i politici corrotti e a tutte le altre proposte che sono state avanzate dal Movimento 5 Stelle e anche nel Parlamento nazionale, possono riportare in alto l'Italia. La corruzione si combatte solo con l'unione di tutte le persone oneste. Vi chiedo un aiuto. Andate su Rousseau, lì troverete la bozza del report che abbiamo caricato e potrete inviarci dei vostri commenti, delle vostre opinioni, dei vostri suggerimenti. E solo con lo stretto rapporto, con la stretta correlazione che c'è tra gli elettori e le persone che lavorano nelle istituzioni, possiamo realmente cambiare questo Paese. Grazie a tutti.